Beato te, contati, beato te, sei forte perché, sei più ricco di un re, intorno a te, contati, indorno a te, colori è l'azzù, ben un cielo zinto di blu. Buongiorno a tutti, è tempo di asparagi e io ho un ibrido molto particolare. Si chiama l'asparago moretti. Ora vi farò vedere la mia coltivazione e la raccolta. la sparago nasce con la radice profonda e va estratto in questa maniera vedete si strappa la radice questo qui è una sparago moretti di Ocigi ora proveremo a vedere se è pronto ma immagino di si si questo è proprio pronto e allora cosa dire ancora sin a tutti